Non sapete cosa fare da mangiare? Fermi tutti, io stavolta invece sì! E sono un sacco di giorni che non preparo ricette con le zucchine, ma devo essere sincera l'ho fatto apposta. Volevo crearvi un po' di attesa per spararvi questa ricetta perché è davvero da urlo, ma tant'è mi perdo sempre in chiacchiere e infatti non ho ancora iniziato a spiegarvela. Vabbè, tanto ci metto poco. Patate bollite schiacciate direttamente con la buccia, tanto poi rimane dentro lo schiacciapatate, se non ci credete potete vederlo all'inizio del video. Ovviamente le zucchine crude grattugiate, parmigiano, pochissima ricotta, pangrattato e uovo. Fate delle specie di crocchettone che andate a infilare nel bastoncino da spiedini. Provate sta pasterla prima di impanarle perché è davvero da urlo e poi li friggete. Va bene, potete farli anche al forno, però allacciate il grembiole e provatele anche voi.